ciao a tutti amici di golf project e finalmente la video analisi dello swing di scottie schaeffler numero uno al mondo vincitore del master negli ultimi due mesi ha spaccato ha vinto quattro gare e ragazzi che quali sono i segreti del suo swing quali sono i segreti di questo swing che state vedendo sicuramente si può dire una cosa uno swing molto molto particolare uno swing difficilmente insegnabile perché ha delle caratteristiche uniche innate che riesce a sviluppare lui che adesso andremo a vedere ovviamente quindi la prima caratteristica del suo swing ovviamente di scottie schaeffler che tutti avete visto è il grandissimo lavoro dei piedi che ha il suo swing guardate come il ground reaction force cioè le forze che noi applichiamo nel terreno cioè la spinta che il nostro corpo tramite i piedi spinge nel terreno applicando della forza per generare ovviamente il movimento quella stessa forza viene restituita al giocatore e quindi i piedi saltano quindi non è l'unico al mondo che lo fa anni fa ricordiamoci greg norman mark calcavecchia babba watson erano dei giocatori che utilizzavano un sacco il ground reaction force utilizzavano un sacco i piedi e quindi per questa soluzione qui per questa situazione e tanti giocatori tanti tanti un po storcono il naso arricciano un po la bocca proprio perché dicono ma che azione dei piedi ha questo ragazzo ma come si fa a copiare e ragazzi questo è incopiabile cioè perché o ce l'hai o non ce l'hai sicuramente la cosa copiabile da prendere spunto per tutti voi giocatori è utilizzare il ground reaction force utilizzare di più applicare più forza nel terreno per sviluppare ovviamente più velocità ragazzi anche il nostro francesco molinari è uno professionista che negli ultimi anni sta tentando di sviluppare più ground reaction force proprio per generare più velocità perché ragazzi quando ormai i vincitori delle gare fanno 300 metri di media con il driver e la tirano anche dritta c'è poco da fare bisogna sviluppare questa caratteristica perché altrimenti i nostri driver vanno corti quindi scottish effler ecco lo swing sicuramente uno swing molto ampio sicuramente uno swing dove utilizza completamente l'azione delle braccia arriva a uno swing a due piani quindi dove utilizza completamente l'azione come dicevo delle braccia verso l'alto e uno swing prevalentemente un giocatore da fade lui è un giocatore che utilizza come abbiamo detto molto i piedi ma un giocatore che come potete vedere bene qui utilizza molto la rotazione del corpo addirittura in alcuni swing si vedono alcuni finish strani proprio perché dopo l'impatto lui si gira proprio anche a causa del movimento che dei piedi e quindi un'azione veramente dinamica un'azione veramente di forza guardatelo in questo swing come talmente si gira che il corpo ruota su se stesso però come l'avete visto al master l'avete visto giocatore di fade perché ovviamente avendo tantissima potenza vuole anche controllo la migliore traiettoria per controllare il drive è sicuramente una traiettoria da fade per questi giocatori così potenti pochi ci sono giocatori che giocano in draw e sono regolari vedi macky roy tantissimi giocatori che scotti scheffler dustin johnson bruce koepka sono giocatori prevalentemente da fade perché nel fade è più facile controllare la faccia del bastone ha meno rotazioni e quindi è più facile tirare dritto per giocatori di questa potenza quindi ragazzi cosa si può dire di scotti grandissima rotazione del busto buona rotazione dei fianchi guardate come va in estensione nella parte finale del back swing quindi praticamente la schiena si estende e da questa posizione riparte in maniera fantastica con la parte bassa del corpo e vedete come il centro dello swing che voi analizzate un po' come la testa rimane perfettamente dietro la palla che lo fa fare dei colpi ovviamente perfetti altissimi e guardate che grande lavoro del corpo in avanti guardate come si estendono le braccia pochissima azione della rotazione della faccia del bastone un po' che è caratteristica di tutti questi super player e quindi che dire di scotti scheffler meritatamente numero uno al mondo guardate qua un altro dei suoi finish clamorosi meritatamente numero uno al mondo perché sta facendo un sacco di prestazioni incredibili è molto regolare e ragazzi cosa cosa posso consigliarvi di scotti scheffler innanzitutto lavorate col vostro maestro se avete problemi di distanza lavorate sul ground reaction force utilizzare al meglio le reazioni del terreno per sviluppare più potenza se invece siete dei giocatori che mancano parecchi t-shot il consiglio è di andare a lavorare sul fade con il driver perché è meglio prendere la pista piuttosto che mancarla con delle grandi bombe quindi vedremo cosa il grande scotti scheffler riuscirà a fare nei prossimi mesi direi che fino adesso è titola grande noi ci aspettiamo tanti cose tante cose da lui e che altro dirvi ragazzi vi aspettiamo alla prossima video analisi dello swing e intanto se vi allenate mi raccomando un golf perfetto grazie a tutti